Allora, questa mattina si mette in salita, questi sono i rapporti usati, è una salita media, ci sono molti modi di pedalare, si sta il modo di pedalare parlando, seduti davanti a un bar, davanti a una tastiera del pc, scimmiottando quello che fanno i grandi, quello che hanno sentito dire, e c'è invece un modo diverso, come il mio, di pedalare e di parare di bici. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, con una mano in salita non è molto pratico. Però vediamo un po' di riuscirci. Spinta finale. Siamo arrivati.